La Ciuciopolitana camminando dal Cilento al Vallo di Diano è giunta oggi all'Università di Salerno. Sono stati tre giorni di cammino dalla Valle di Pruno di Laurino, dalla Tempa del Figo, da cui è partito Nando, il Ciucio Nando, per arrivare poi ad Atena Lucana, alla signeria Equinozium, e con l'aiuto del nostro carissimo Nino Caldieri. Poi il Ciucio è arrivato meccanicamente qui all'Università. All'Università abbiamo portato le istanze di rinnovamento, di progresso che stanno nascendo oggi in questi territori di confine e di confino, quali sono il Cilento, il Vallo e tutti i territori rurali degli nostri appennini italiani. Le energie come quella di Camp di Grano a Caselli in Pitteri, come quelle di Camp di Paglia alla Tempa del Figo, come tutti i giovani che tendono a fare qualcosa nel Cilento senza dover per forza andare via, senza dover per forza emigrare, verso un tipo di modello di sviluppo imposto in qualche modo dall'altro. E il Ciucio è portavoce di tutto questo, il Ciucio è portavoce di una rinascita che può partire da quello che abbiamo, appunto dai territori rurali, i territori che si caratterizzano per uno sviluppo non urbano, non industriale, ma per uno sviluppo delle risorse che ci sono, l'agricoltura, l'allevamento, il piccolo artigianato. E qui all'Università cerchiamo il contatto con il sapere, con la conoscenza, che troppo spesso diventa soltanto un momento fine a se stesso. La conoscenza deve tornare ad essere il mezzo per il quale queste risorse, questo tipo di progresso può essere possibile, tornando a tenere i piedi ben saldi nel passato, ma avendo gli occhi puntati verso il futuro. Fin da stavo, pagli, fieni, amatini, cruscati, vieni, o strigliavano all'isciata, una cosa stravedita. Semmo nuove guardie vieni, o portava allegramente, o piroccio a piaccia a sardegno. Ma, siccome erano i cicci, non capite lo tracciamento, se facete prepotente, non potete vendere. Uno buco, l'induco, ho un buonetto, l'umetto, l'umetto. E' la punetta, è una cosa stessa, e potrebbe essere fornita. Eh, ma tant'è, non lo tracciato, ma la puntata mattina, ho trovato una grande capacità, che ne so che potrebbe essere fornita. ma tant'è chissà il destino, quando il ciuccio non capisce è per forza che fornisce soltanto anche il reto A presto, a presto! A presto, a presto!